Good morning ragazzi ed eccoci qui con un nuovo vlog di FCHM Tech. Oggi è un gran giorno perché è il 31 di luglio e finalmente si parte per le vacanze. Andremo all'Ore del Mar in Spagna vicino a Barcellona e staremo via per 10 giorni quindi conto di rilassarmi, di divertirmi e di fare un sacco di video per voi. Siamo all'aeroporto di Caselle e ovviamente stiamo aspettando l'aereo da buona usanza italiana. Molto triste. Bene ragazzi siamo arrivati all'aeroporto di Barcellona, questo posto è veramente gigantesco. Siamo su un tapirulano lunghissimo, veramente impressionante. No ragazzi ho dimenticato la GoPro per la vacanza, meno male che qui c'è un distributore. Posso comprare un iPad per 1000€. Ho la mia GoPro per 470€. Smettila di filmare, non voglio fare il video, chiaro? Bella a tutti ragazzi, adesso siamo sul Pullman che ci porterà direttamente all'alberetto. Eccoci qui sulla passeggiata di Lorè del Mar, veramente bellissima. Col mare di sottofondo. Muri di lattine di birra. Vuoi ammuccare un po' d'acqua amore? Un goccio? Te la passo, aspetta. Bella ragazzi, siamo qui, di fronte alla Sagrada Famiglia, è davvero imponente. Ma c'è un sacco di gente. Fibra 300 MB. Guardate ragazzi, un piano solo tecnologia. Fino a perdita d'occhio. E tutto questo in Spagna. Ok ragazzi, questa TV è veramente larghissima. Sono 84 pollici per 213 cm. Non ci sta neanche nel salone. Finalmente ragazzi, ho trovato i nuovi Sony. Quelli con Android TV 4K Ultra HD. Veramente sottili. E qui in Spagna non costano neanche tanto. 1800€. E dopo 13 ore di vagabondaggio per Barcellona, finalmente un miraggio. Sposta il pullman, ci fa un favore. La mela dell'Apple Store. Qui gli iPhone hanno un prezzo di partenza di 30€ in meno. iPhone 6 o iPhone 6 Plus? Quale scegliereste voi? Io personalmente aspetterei 6S. Plus ovviamente. Un bel tuffo in piscina. Un bel bagno giugno. E una bella secchiata d'acqua ghiacciata. Mettete un mi piace. e condividete con i vostri amici. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ragazzi non ci crederete, ma ho visto dei tedeschi buttarsi sul buffet come se non ci fossero domani. Vi lascio ora alla carrellata di schifezze che abbiamo mangiato in questi 10 giorni. Bene ragazzi, stasera iniziamo con un bel piatto pieno di carne. due cheeseburger con doppio hamburger, rinforzo di formaggio, bacon e cipolla. E ovviamente farcitura di ketchup e maionese. Il mitico mech pollastro. Il mitico mech pollastro.